Io ho fatto quello che sempre faccio da uomo delle istituzioni, difendo la città, difendo le istituzioni e difendo i nostri concittadini. Siccome siamo passati alla fase 2, che è quella di presentazione del piano sempre di più a tutta la città, e siccome Bagnoli riparte, grazie alla collaborazione tra istituzioni e all'impegno che le istituzioni devono, ognuno per la sua parte, comune, regione e governo centrale, ho invitato in modo, credo, fruttuoso queste istituzioni a sederci attorno a un tavolo attraverso i rappresentanti istituzionali di questi enti e nel caso del comune democraticamente eletti, come nel caso della regione, Campania, e quindi per discutere del piano. Detto un bel gesto, poteva essere quello di discuterne a Bagnoli, discuterne comunque a Napoli, ma ho anche detto discuterne dove volete voi. E soprattutto perché credo che il dialogo tra istituzioni nell'ambito di una cornice costituzionale sia quello che bisogna necessariamente fare. Insomma, ho cercato di rimettere le cose in una cornice di correttezza istituzionale, visto che era stata violata. Ero certo, come dire, che sarebbe venuta la disponibilità da parte del Presidente del Consiglio, che lui dice essere sempre pronto al dialogo, e da parte del Presidente della Regione, è venuta questa risposta di De Vincenti che respinge evidentemente il dialogo tra gli organi previsti dalla Costituzione e vuole reiterare un abuso di potere dicendo che la cabina di regia è il luogo dove discutere. C'è un luogo chiuso in cui hanno già preconfezionato decisioni, un luogo che è un abuso di potere ed è una illegalità perpetrata. Quindi in quella cabina di regia noi non ci staremo. Quando vorranno dialogare noi siamo sempre pronti. Abbiamo talmente dialogato che abbiamo anche firmato un atto il 14 agosto del 2014 che il Presidente del Consiglio ha stracciato e disatteso. Quindi ormai è chiara dove sta il senso istituzionale, il rispetto delle istituzioni della città e dove c'è la prevaricazione e l'abuso di potere.